Sono Alberto Lumeo, sono un chirurgo cardiovascolare, ho lavorato oltre che in Italia, in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti. Mi sono sempre occupato di ricerca clinica e negli ultimi vent'anni sono stato primario di chirurgia cardiovascolare a Cagliari e a Catania. Per la prima volta ho utilizzato i taupeg circa quattro anni fa, quando mi sono stati proposti da un fisioterapista per alleviare il mio cronico mal di schiena dal vecchio animale di sala operatoria. Entusiasta per i risultati e per la tecnologia innovativa di questi dispositivi ho iniziato a utilizzarli anche in pazienti con patologie croniche degenerative cerebrali quali la sclerosi multipla con risultati incoraggianti. In considerazione però dello scetticismo della gran parte dei miei colleghi, ho capito che era assolutamente indispensabile fare della ricerca clinica tradizionale per fare affermare questa tecnologia in ambiente scientifico. Mi sono pertanto proposto alla Tau Technology per condurre la ricerca clinica inerente ai taupegge. Col mio lavoro abbiamo realizzato alcune tesi di laurea, una pubblicazione su rivista internazionale presente su PatMed, tra poco sarà pubblicato il nostro lavoro sulla sclerosi multipla e altri lavori su diverse patologie sono attualmente in cantiere. Il mio ruolo come responsabile medico scientifico della Tau Technology consiste da una parte nell'affiancare i ricercatori nella realizzazione di nuove ricerche e dall'altra aiutare, consigliare i professionisti nell'applicare i taupegge nelle varie patologie. Il mio lavoro futuro sarà testare nuovi dispositivi e nuove applicazioni che scaturiscono dalla fervida mente di Fabio Fontana ed aiutare i professionisti a utilizzarle.